Buon pomeriggio, anzi buona mattinata dal redazione web della città di Torino. Sono le 9 e 15, siamo come sempre in diretta sul canale Ustream e in registrata sul canale YouTube agli indirizzi che vedete in sovrimpressione. Iniziamo con la viabilità colgandoci con il comando della Polizia Municipale di Torino. Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del comando di Polizia Municipale di Torino. Buon venerdì 31 ottobre. Le notizie di oggi. Divieto di transito in via Bertola, tra via Roma e via 20 Settembre, per presenza autogru. Rallentamenti in corso Duca degli Abruzzi, angolo via Cristoforo Colombo, semafori manutenzioni in via Nizza, angolo corso Spezia, corso Vittorio Emanuele, angolo via La Grange e Nizza. L'Una parca autunale al parco Carrara, affluenza cittadini ai cimiteri per le imminenti festività, riprese cinematografiche, sino al 20 dicembre del film La doppia ora e nella mattinata, in zona via Valfrè, riprese televisive. Probabile manifestazione azienda Michelin dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 17. Nella mattinata cerimonia presso la scuola di applicazione in via Arsenale, alle ore 10 presso il pala giustizia, corso Vittorio Emanuele, festa della polizia penitenziaria. È tutto, buon viaggio. Bene, grazie Walter, queste sono quello che vedete sopra le persone e l'indirizzo internet a cui potete rivolgervi per trovare tutta l'informazione del comando di polizia municipale e in particolare anche l'ultimo minuto di abilità. Bene, passiamo al tempo, piove, piovigina, la rilevazione delle ore 8, ci dice la prima faccia del comune di Torino, dava 8 gradi, centigradi e ovviamente pioggia. Il pioggia che continuerà a essere presente anche in tutta la giornata di oggi e nella nottata, come vedete dalle nostre previsioni. Vediamo gli appuntamenti istituzionali di oggi, venerdì 31 ottobre, alle 9.30, sopra l'uogo della quinta commissione consigliare all'Arena Rock di Via Trave, Sangolo, Via Druento. Alle ore 10, nell'aula magna della Paragiustizia, il sindaco è presente alla festa della polizia, penitenziare alle 11, a Palazzo Civico, in Sala dell'Orologio, l'unione della prima commissione consigliare preseduta a Giacchino Contro con all'ordine del giorno accertamento della proprietà di 22 strade acquisite per l'usucapione al demanio del comune. Secondo punto, l'audizione dell'assessore Beppe Borgogno sull'approvedimento dei provvedimenti sulle dotazioni del corpo di polizia municipale. Alle 11, alla Scuola Militare di Applicazione, in versione 22, il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Castro, partecipa all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Militare d'Applicazione. Alle 12, al Parco d'Arte Viventi di Via Giordano Bruno 31, l'assessore Alfieri partecipa alla visita riservata alla stampa del parco. Alle 17, l'inaugurazione con la presenza del sindaco. Alle 14, al Palazzo Civico di Saraca di Capigruppo, si riunisce alla conferenza di Capigruppo. E alle 21, alla Parocchia di Santa Rita, il sindaco interviene ad un incontro pubblico per la celebrazione degli 80 anni della Chiesa. Bene, passiamo adesso a qualche notizia che arriva dal web della città. Si tratta delle aperture e chiusure dei negozi della fine settimana. Sapete, domani, primo novembre, i negozi sono chiusi in tutto il territorio cittadino. Domenica 2 novembre sono aperti all'interno della zona turistica centrale della città di Torino. Sul nostro servizio mappato è disponibile la piantina dell'area interessata all'apertura dei negozi. Chiudiamo, come sempre, con le webcam. Questa è piazza Palazzo di Città. Immagini che ci arrivano in tempo reale dalla nostra webcam. Questa è la piazza San Giovanni con il Duomo. E terminiamo con il piazzale Autostrade Nord. Vedete una circolazione moderata alla rotonda dell'ingresso o all'uscita, secondo dei punti di vista, della Torino-Milano. a Osta. Bene, con questo abbiamo terminato. Io ringrazio Mirko Corli che ha curato la messa in onda di questa edizione. Vi do appuntamento a quella del pomeriggio alle ore 16.15. A tutti, buon proseguimento di giornata. Grazie. 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 Grazie.